Musica Siamo con Ambrogio Invernizi, è una giornata particolare. In Alpi continua a fare formazione, continua a darsi da fare, continua a legarsi al territorio e pensa sempre anche ai giovani. In questo caso parliamo di master che formeranno dei ragazzi a sapere di più sul latte, sapere tutto sul latte e dare una mano agli allevatori. Esatto, questo è stato fatto mettendo insieme quattro aziende del territorio di Cuneo, più due fondazioni bancarie, più diversi enti territoriali, più l'università, per formare, per qualificare sempre di più il prodotto di latte piemontese, per far crescere la filiera piemontese. Formerà dei ragazzi che dovranno conoscere, saranno esperti in tutto sul latte, però specificatamente sul latte, partendo dal terreno, da come viene concimato, dalla genetica degli animali, andando avanti man mano in tutta la linea del latte, la trasformazione, il prodotto finale, addirittura il marketing dei prodotti derivati dal latte. Quindi queste quattro aziende insieme all'università, insieme all'istituzione, a provincia di Cuneo, si sono messe insieme per qualificare il più possibile il prodotto del latte piemontese. Ma perché hanno scelto Moretta? Beh, hanno scelto Moretta per una serie di motivi, perché Vinalpias è da Moretta, ma non è il principale, perché a Moretta l'università di veterinari aveva già due corsi di patologia suina, perché Moretta è davvero il centro del latte piemontese, perché gran parte delle stalle da latte, le grandi stalle da latte, sono attorno a Moretta, quindi per dare proprio il segno dell'importanza del latte. Poi Moretta è in provincia di Cuneo, le quattro aziende finanziatrici, più una fondazione bancaria e del cuneese, quindi fortemente voluto anche da diverse realtà economiche della provincia di Cuneo, questo master. Quindi in Alpi è sempre più importante per quanto riguarda il Piemonte, e tutto quanto quello che ha la filiera in renta al latte. E sì, perché noi crediamo che bisogna dare un prodotto di filiera per dare un prodotto sicuro ai consumatori finali, ma la filiera non va solo scritta dicendo io compro il latte da quella stalla, la filiera va proprio creata creando figure esperte, figure che controllino, figure che qualifichino e che rendano sempre più sicuro e più buono il prodotto che arriva da queste filiere.